Stefano Caldono La presenza dell'onorevole Caldono sancisce l'appoggio del governo della regione Campania al candidato Massimo Ionice Siamo sicuri sarà di buon appoggio per la sua fermazione Il centro-destra governa la regione Campania, la provincia e presenta Massimo Ionice come impressione del centro-destra nella città di Gazzotta in un comune che deve recuperare la normalità Adesso passo la parola a Massimo, al Presidente Voglio ringraziare la presenza dell'onorevole Gennaro Cera Angelo Marino consigliere regionale E il senatore Vincenzo Nespoli Che ho dimenticato, ma non chiedo bene Porto i saluti dell'onorevole Cesaro che stasera non ha potuto essere con noi Passo la parola al governatore della regione Campania Grazie Venendo qui ho parlato prima con Massimo e stavamo facendo un po' il punto della situazione su quelle che sono gli obiettivi di chi decide come lui insieme a voi di siedere in campo e di vendersi gioco nell'interesse dei cittadini Io dico per l'amore che uno deve avere per la propria città e per il proprio territorio e se stiamo insieme dobbiamo dire perché stiamo insieme E quindi il mio impegno e la mia presenza qua è evidente che nel modo istituzionale di Presidente della regione ma intanto io ne approfitto perché anche quando si fanno le campagne elettorali mi pare che le campagne istituzionali devono essere così super partes io non credo che uno debba essere super partes perché se uno è stato eletto è stato eletto su un programma ed è stato eletto da una coalizione è stato eletto da uomini e donne elettori, cittadini, movimenti politici e partiti che credono in un programma comune, in un progetto comune ognuno di noi è legato a una storia politica e ognuno di noi è legato a una storia di attività sul territorio e di rapporti che vengono costruiti non nell'interesse di potere ma nella logica delle cose da fare perché bisogna rispondere a una buona coalizione un consenso politico, un movimento, un fatto di partiti, di uomini e di donne è in campo perché si gioca attorno a un programma, attorno alle proprie scelte del candidato sindaco un futuro insieme, insieme perché è insieme che si fa questa battaglia quindi io mi sento parte di questa nostra squadra mi sento parte di questa nostra gara elettorale e di questa nostra sfida politica che vogliamo affermare sul nostro territorio perché è giusto e perché siamo confortati dal risultato che in queste settimane è venuto e anche in queste ultime elezioni è venuto perché a Napoli, nella provincia di Napoli e devo dire in gran parte della nostra regione la nostra coalizione anche in controttenza di quello che è avvenuto a livello nazionale noi abbiamo recuperato quasi 5 punti percentuali rispetto alle regionali del 2010 quindi vuol dire che c'è una voglia di credibilità abbiamo credibilità, c'è chi vuole che ha fiducia di quello che stiamo facendo e c'è la voglia di continuare il lavoro che abbiamo messo in campo lo dobbiamo fare insieme si parla spesso di dire il finire istituzionale io in maniera contundente direi che c'è una squadra e c'è una squadra della regione che ha un suo programma c'è una squadra della provincia che ha un suo programma noi dobbiamo fare in modo che anche a Casoria ci sia la stessa squadra che condivida lo stesso programma di governo non dobbiamo fare risultato dell'area territoriale che ho parlato prima con Enzo Nescoli che non solo ha il ruolo di parlamentare ma ha anche il ruolo per me più importante di fare il sindaco della grande città quindi ha un ruolo più importante parlando di qui per Enzo con Enzo abbiamo detto quanto diventa determinante avere le amministrazioni locali che hanno programmi comuni che ormai non sono programmi che si possono dividere solo tra Fragola, Casoria o comuni che nell'ambito dell'area nord di Napoli rappresentano un punto di sperimento sono programmi comuni la mobilità, i trasporti, il investimento nel settore, nella casa di qualsiasi attività anche quella che sembra collegata alla piccola attività comunale deve avere di riflesso in un'area territoriale più importante e nello sforzo di comprare se la spesa è la stessa maniera è difficile permettetemi come sto vedendo anche nella campagna di Napoli confrontati con quelli che sono sempre in campo i nostri avversari che per tentativi di dire non hanno mai interesse di governare i cittadini ma sono solo bravi a trovare elementi elettorali propensi che non possono mantenere proprio perché tanto che non le possono mantenere fanno programmi che sono programmi con posizioni che sono programmi sconerti ed è facile permettere l'alunna quando poi non si pianizzano le cose non c'è la responsabilità quindi noi dobbiamo affermare assolutamente questa finiera istituzionale tenere insieme i programmi quindi oggi ti dico che si arriva in grado massimo di governare insieme perché la pensiamo con la stessa testa abbiamo le stesse idee da mettere in campo le stesse proposte e la regione Campania deve fare la sua parte insieme alla provincia di Napoli avete salutato il Presidente Cesaro che non è qui con noi ma è presente di tenere insieme una serie di programmi e con te sviluppare questi programmi e queste idee per riferire dalla tua città concludo con questo appello è evidente che quando si mette in campo una candidatura a me fa piacere che si sia anche recuperata una unità, diciamo, complessiva della nostra coalizione perché chi non può essere stato risposto a tutti e dobbiamo constatare il non governo, la demagogia chi non vuole il bene del nostro territorio quindi questa è una cosa fondamentale per cura di questa unità che ci dà maggiore forza e maggiore credibilità per vincere una battaglia elettorale ma poi dobbiamo farlo con lo spirito di chi sa che dal giorno dopo deve affrontare i problemi per risolvere le questioni e per dare le risposte ai cittadini in ogni settore di rinievo che deve avere finito quella sua amministrazione comorale e concludo con l'appello finale che è l'appello di tutti i giorni quelli che determinano la scelta noi abbiamo è chiaro che si è fatto molto lavoro ma alla fine quelli che contano sono gli ultimi giorni uno può aver fatto tutti i lavori straordinari in una campagna elettorale lunghissima perché è una campagna elettorale che viene impegnata al primo giorno poi ci sono questi altri 15 giorni dobbiamo fare il modo da completare la vittoria con questi ultimi due giorni di lavoro o meglio i due giorni i lavori sono di più perché i lavori il lavoro che non vi distraete facciamo finta che a chi non potesse è giusto che potesse e ci siamo dentro la guardiamo guardiamo tenete presente che in gran parte delle contestazioni o dei malestri che ci sono sono tutte cose che noi abbiamo realizzato e dice chi ha incominato i guai e devo dire purtroppo e devo dire purtroppo la sofferenza che hanno portato su questo territorio è reale e quindi anche è giusto che qualcuno soffra e protessi per la sofferenza e noi dobbiamo assurdo la responsabilità di garantire tutto concludo con il rappello elettorale dobbiamo fare in modo di vincere questa battaglia ognuno di voi tanto che con le gambe con il cuore e con la testa deve recuperare l'ultimo mondo quindi diamo aiuto a Massimo la unizione di Massimo dipende da voi che con le gambe che con le gambe che con le gambe e con le gambe che con le gambe che con le gambe è un'altra battaglia grazie